Primo, devo dire che grazie a tutti che hanno lavorato così bene l'anno scorso, Napoli è qua, questa è la prima cosa e adesso grazie a questi giocatori che abbiamo con esperienza e con qualità possiamo affrontare questa partita con fiducia in noi stessi. Chiaramente giochiamo con una squadra in forma, una squadra fortissima a livello europeo ma abbiamo fiducia che noi possiamo fare la nostra e vediamo questo calcio sempre 11 contro 11 qualcosa può succedere. La prima cosa è che il Presidente ha molta fiducia in me, questo mi piace ma chiaramente io non gioco la partita, sono dei giocatori che fanno la differenza. L'atteggiamento, come approcciamo la partita è chiaro che questa squadra è una squadra diversa ma noi proviamo a fare le cose che abbiamo fatto bene e se dobbiamo aggiustare qualcosa lo facciamo. Non è un problema per me dire che devo cambiare questa piccola cosa o l'altra, non è una partita che può essere decisiva in quanto all'idea di come giochiamo noi. È una partita diversa, è una partita importante con una squadra forte e così se dobbiamo aggiustare qualcosa l'aggiustiamo. Non so esattamente che significa temore, temere, timore. No lo so ma non lo so. No no, c'era una vocale. Timore, no? Noi non abbiamo paura di nessuno ma questo non lo dico con, non so se si dice arroganza, lo dico con questa fiducia in noi stessi che lavoriamo e che questo è calcio. Se noi lo facciamo bene al 100% sarà difficile per qualsiasi squadra e se loro fanno lo stesso sicuro che sarà difficile per noi. Ma ho più paura dei giocatori che sono in campo perché possono fare gol che non dell'allenatore che uno come io che proviamo a fare qualcosa ma dipende da loro più che da noi. Sì, è così. È chiaro che noi vogliamo giocare con le squadre più forti e questa è una delle squadre più forti d'Europa. Sarà questa sfida interessante, dico un'altra volta che è all'inizio del nostro percorso, ma chiaramente preferisco queste partite che non un'altra partita più facile, più semplice. E sì, vogliamo dire a tutto il mondo che siamo forti.